Signor Sofoli. Grazie, Presidente. Voglio esprimere il mio appoggio a questa obiezione, che invita fra l'altro la Commissione a introdurre restrizioni alla vendita di bevande energetiche ai bambini e agli adolescenti. Questi ultimi ne rappresentano il più ampio gruppo di consumatori. Vale il principio di precauzione. Non c'è un livello sicuro per il consumo di caffeina, che determina, come ricordato, disturbi del sonno e problemi comportamentali nei bambini e negli adolescenti, nel caso di un uso regolare prolungato se non di abuso, oltre all'allevato rischio obesità per l'alta concentrazione di zuccheri nelle bevande energetiche. Dunque è giusto opporsi all'adozione di questo progetto di regolamento della Commissione che non serve e che nello specifico introduce quattro nuove indicazioni sulla caffeina, fra cui testuale. La caffeina contribuisce ad aumentare la lucidità mentale e aiuta a migliorare la concentrazione. Si tratta di un messaggio potenzialmente pericoloso per i ragazzi. Infine, per chiarezza e coerenza, ribadisco a nome della delegazione italiana del gruppo S&D la nostra contrarietà al concetto dei profili nutrizionali, che alcuni emendamenti che non condividiamo mirano a reintrodurre e che questa stessa aula di recente ha già bocciato. I profili nutrizionali non hanno un vero fondamento scientifico. Non si basano sulle quantità effettivamente consumate di grassi, sali e zuccheri. Non esistono cibi buoni e cattivi per legge. Bisogna puntare sull'educazione alimentare.